I soliti ignoti tornano a colpire a Po. Ancora una volta finisce nel mirino dei vandali la sede degli scout di Cremona ospitata nell'ex campeggio sul lungo poi Europa accanto alle colonie padane. Un blitz che ha portato diversi danni all'interno della struttura messa a posto in tutta fretta per consentire ai ragazzi di tornare a trovarsi nel fine settimana. Amarezza rimane però per il gruppo degli scout alle prese con un problema che si ripresenta periodicamente. D'altra parte a Po nelle vicinanze del parco si ripropongono anche altri problemi come i furti sulle autoparcheggiate che vengono prese di mira approfittando dell'assenza dei proprietari per trafugare ciò che rimane a bordo o altri episodi di microcriminalità. Durante la scorsa settimana qualcuno ha scavalcato la recinzione del parco didattico scout, si è introfolato nella struttura forzando le porte e spaccando i vetri, ha distrutto il materiale dei ragazzi e dei capi scout, ha consumato i nostri estintori. Questa non è la prima volta che succede, è già la terza e noi sappiamo che il nostro parco situato sul lungo Po è un posto un po' fuori mano, non proprio nel centro della città, ma sappiamo anche che è un posto dove persone vanno a passeggiare spesso, quindi l'appello che noi facciamo è a tutti i cittadini si vedono o si sentono qualcosa che ovviamente è fuori dal normale che si tratti di vetri rotti o estintori sparati in mezzo a un parco, di avvisare assolutamente le autorità e aiutarci a evitare che questi episodi si possano ripetere. Grazie a tutti!